Musica Ballo della Lucania, pagate fatture per lavori pubblici non completati. La Guardia di Finanza esegue un sequestro di beni per 3 milioni e mezzo di euro. Tribunale di Sala Consilina, la deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri, critica la politica locale silente negli anni passati. Sassano, sabato 13 maggio, la quinta edizione del torneo di scacchi con i ragazzi del progetto A scuola con gli scacchi. A Salerno, i quadri generali del turismo sostenibile con FENAI. San Pietro, Altanagro, il 28 maggio, la prima edizione del Festival dello Sport per i bambini dai 3 ai 14 anni. Eccoci, bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca, sequestro preventivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro ai danni di società e persone fisiche da parte della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, che ha scoperto una truffa ai danni della regione Campania su fondi del POR 2007-2013. Avevano effettuato il saldo di fatture per lavori pubblici mai completati. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, ha effettuato un sequestro preventivo di somme sui conti correnti di società ed amministratori per un totale di oltre 3 milioni e 500 mila euro. Adoperare le fiamme gialle della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, che hanno eseguito le indagini in riferimento alle spese sostenute da un comune del Cilento, per lavori di ristrutturazione, adeguamento e completamento della rete idrica e fognaria e la realizzazione di un impianto di depurazione, oltre che per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza. A seguito delle risultanze delle indagini, la Procura di Vallo della Lucania ha emesso il decreto di sequestro preventivo nei confronti di tre società e sette persone fisiche, coinvolte a vario titolo in una truffa ai danni della regione Campania sull'utilizzo di finanziamenti con fondi POR Campania 2007-2013. All'esame della copiosa documentazione acquisita dagli uomini della Guardia di Finanza Vallese, è stato possibile rilevare che le somme, oggetto di finanziamento regionale, destinate alla realizzazione del depuratore, erano state liquidate alle imprese e ai tecnici, nonostante l'impianto, come accertato in sede di ispezione sul sito, non fosse mai entrato in funzione, in quanto carente dei necessari collegamenti con la rete fognaria esistente. Ulteriori approfondimenti, inoltre, hanno permesso di accertare che l'appalto per i lavori di videosorveglianza erano stati affidati alla stessa ditta esecutrice dei lavori per l'impianto di depurazione, senza indire alcuna gara pubblica, nonostante l'importo stanziato dalla regione fosse di oltre 400.000 euro, somma nettamente superiore alla soglia dei 40.000 euro prevista dalla normativa di settore per un affido diretto. Per garantire il recupero di quanto indebitamente percepito, il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha dunque emesso un decreto di sequestro preventivo del profitto del reato, eseguito sui conti correnti delle tre società e dei loro rappresentanti legali, del RUP, del progettista e del collaudatore dell'opera pubblica, per un importo complessivo di quasi 3.500.000 euro. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito in fase di indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro, indibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all'esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile. Continuiamo con la cronaca rapinò nel 2022 farmacie e centri scommesse. La Polizia di Stato ha individuato e arrestato il responsabile, l'uomo GF. Queste le sue iniziali, è indagato per molteplici episodi di rapina aggravata e di porto illegale di arma, con volto travisato e mediante minaccia di un'arma, si sarebbe reso responsabile di 10 rapine commesse fra gennaio e dicembre 2022 ai danni di farmacie e sale scommesse ubicate nella città di Salerno e nella provincia, procurandosi un bottino di circa 20.000 euro. È stato arrestato. Andiamo avanti. Il prossimo Consiglio Comunale aperto per discutere sulle azioni da mettere in campo per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina diventa motivo di polemiche per la mancata convocazione dello stesso negli anni passati. A criticare la decisione la deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri, che assicura l'impegno del Ministro Nordio per la modifica della riforma. Vediamo. Fermento per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina con la politica locale ed in particolare i capi gruppo del Comune Salese che si muovono per sollecitare interventi che in realtà negli anni passati non si sono registrati. La conferenza dei capi gruppo che si è svolta nelle scorse settimane a Sala Consilina, nel corso del quale è stata decisa la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario in sessione aperta alla partecipazione anche di parlamentari ed esponenti della politica regionale, ha spinto la deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri, ad intervenire in merito alla vicenda, ricordando come, dopo anni e anni di silenzio e senza che nessuna azione sia partita dal territorio per far leva sui governi passati, solo ora che il governo è guidato da una coalizione di centrodestra, le amministrazioni di centrosinistra decidono di alzare la voce. Negli ultimi anni, scrive l'Onorevole Vietri, quando PD e Movimento 5 Stelle erano al governo, hanno fatto soltanto promesse, poi mai mantenute sulla riapertura del Tribunale di Sala Consilina, leggere che solo ora, a livello locale, sono pronti a farsi sentire sul tema e a dir poco curioso. Per dieci anni è calato il silenzio degli amministratori locali di centrosinistra del Vallo di Diano, nessuna protesta quando i loro partiti erano al governo, perché non hanno attaccato con nomi e cognomi i loro referenti nazionali, deputati, senatori, ministri, che hanno avallato la chiusura del Tribunale? È troppo facile e anche fazioso farlo ora soltanto perché c'è il centrodestra al governo, mentre PD e Movimento 5 Stelle sono all'opposizione. Negli anni passati la politica locale si è riunita in sessione comune presso il Teatro Scarpetta per discutere delle problematiche legate al tema della giustizia, ma in particolare il tema affrontato ha riguardato la chiusura del carcere di Sala Consilina. L'unica azione portata avanti per il Tribunale salese è stata la proposta di legge regionale presentata dall'On. Corrado Matera, accompagnata da una serie di audizioni, da cui sono emerse le criticità riscontrate a seguito della soppressione del Tribunale, seguendo così l'azione portata avanti in diverse altre regioni italiane contro la riforma della geografia giudiziaria. I cittadini del Vallo di Diano, dichiara Imma Vietri, non hanno l'anello al naso e sanno bene che ha governato l'Italia negli ultimi dieci anni e non si è occupato seriamente della questione. Per quanto ci riguarda come Fratelli d'Italia, le chiacchiere del centro-sinistra siamo pronti a rispondere con i fatti. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in carica da pochi mesi, è già al lavoro per arrivare, attraverso una riconsiderazione delle riduzioni che sono state fatte dai governi precedenti, alla riapertura di alcune sedi giudiziarie già soppresse, come appunto quella di Sala Consilina. Ci sono novità per i pazienti diabetici in Campania. Ritorna il sistema di misurazione della glicemia con sistemi e sensori FGM Abbott per quattro tipologie di pazienti. I dettagli. Novità per i pazienti diabetici in Campania in relazione all'utilizzo del nuovo sistema di misurazione della glicemia FGM, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha convocato e incontrato la Commissione Diabetologica Regionale, composta dai maggiori esperti regionali e nazionali. Hanno segnalato che per alcune tipologie di pazienti è necessaria l'applicazione del sistema di misurazione della glicemia preesistente. La Direzione Generale per la Salute ha quindi comunicato alle ASL della Campania di garantire l'acquisizione del sistema preesistente FGM Abbott per quattro tipologie di pazienti con diabete in età pediatrica, in gravidanza, in età superiore ai 65 anni e con diabete di tipo 1 in età adulta 18-65 anni con storia di ipoglicemia documentata e ricorrente. Notizia accolta bene dal coordinamento delle associazioni di pazienti diabetici della Campania che ringrazia la Regione e la Commissione scrive la Presidente Fabiana Anastasio per la disponibilità dimostrata e la decisa presa di posizione a tutela della salute dei pazienti diabetici dimostrando così che l'alleanza e la sinergia tra mondo istituzionale e associazionismo non può che produrre risultati positivi che si traducono in salute. Nelle scorse settimane si era molto parlato della questione e con molta perplessità. In particolare era venuta fuori una possibile compromissione qualitativa ed economica dei presidi in Campania. Il 16 marzo del 2022 la soresa S.p.a. avevano spiegato le associazioni di pazienti a indetto una procedura aperta per la fornitura di sistemi di monitoraggio FGM per le aziende sanitarie che si sarebbe conclusa con la giudicazione della commessa ad un'azienda diversa dall'attuale fornitrice il cui prodotto non sarebbe sovrapponibile a quello attualmente utilizzato da 20.000 pazienti campani. Era stata la stessa Anastasio a dirsi estremamente sorpresa e preoccupata aveva dichiarato per le conseguenze che potrebbero ricadere sulla salute di gran parte dei 410.000 pazienti diabetici della regione chiedendo al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca di intervenire subito per fare chiarezza nel merito e garantire sicurezza agli ammalati. Il progetto portato avanti presso l'istituto comprensivo Falcone di Sassano prosegue con successo e interesse tra i ragazzi che partecipano entusiasti all'iniziativa promossa dal professore Pasquale Trotta per aiutare i ragazzi ad imparare il gioco degli scacchi sabato prossimo 13 maggio si terrà l'appuntamento conclusivo per il torneo finale e la gara in simultanea. I ragazzi dell'istituto comprensivo Falcone alle prese con il gioco degli scacchi torna con la quinta edizione l'atteso appuntamento annuale che vede i ragazzi dell'istituto comprensivo Falcone di Sassano sfidarsi in gare di scacchi per mettere in pratica quanto appreso durante l'anno scolastico. Da anni infatti l'istituto Falcone è una scuola leader nella preparazione dei ragazzi al gioco degli scacchi che rappresenta anche un utile gioco per svegliare la mente e allenarla alla riflessione. Unendo quindi il gioco alla didattica si cerca di aiutare i ragazzi a crescere in maniera sana e a prepararli anche alle future sfide della vita per ciò che riguarda la formazione. Sabato prossimo 13 maggio le attività legate al progetto denominato a scuola con gli scacchi promosso e ideato dal professor Pasquale Trotta con il contributo della GB Gruppo di Brizzi si concluderanno con una giornata di torneo che prenderà il via alle ore 9 con la fase eliminatoria che prevede 5 turni in cui si sfideranno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dei plessi di Sassano e Monte San Giacomo e gli ex alunni Under 19. Nel pomeriggio si entrerà nel vivo con la fase finale a cui avranno accesso i primi 20 classificati della fase eliminatoria della mattina. Il torneo si concluderà con la gara simultanea con l'istruttore nazionale Carmine Delisa che se la vedrà con i migliori 10 interni in una gara in cui li sfiderà i 10 finalisti contemporaneamente. Al termine si terrà la premiazione. Il torneo, fanno sapere dalla scuola, rappresenta la parte finale di un'attività che si è svolta durante tutto l'anno scolastico nelle singole classi. La fase iniziale di qualificazione ha visto tutti gli alunni impegnati in più lezioni a volte di mattina ma anche in orario extracurriculare con rientri pomeridiani durante le quali oltre ad apprendere le prime nozioni di base degli scacchi si sono cimentati nel gioco sfidando ogni volta un avversario diverso. Il gruppo di Brizzi continuano dalla scuola con la sua cortese disponibilità consente di poter consegnare dei premi, coppe, medaglie ai vincitori e partecipanti nonché contribuire alla diffusione della pratica e della passione per il gioco degli scacchi. Andiamo a Polla sarà nuovamente affidato in gestione il parco della rimembranza e il comune ha così deciso con una delibera di giunta nei giorni scorsi. Sarà nuovamente affidato in gestione il parco della rimembranza a Polla e il comune ha così deciso con una delibera di giunta nei giorni scorsi. L'area per anni è stata gestita da un privato ma da qualche mese è finita la convenzione ha bisogno ora di essere curata. La gestione la manutenzione diretta del verde pubblico si legge nella delibera richiede per l'ente l'impiego di notevoli risorse umane ed economiche soprattutto in termini di manutenzione ordinaria salvaguardia del patrimonio e sicurezza pubblica per limitare le spese relative alle manutenzioni ordinarie di taglio delle erbe infestanti e riparazione dei danni causati dal tempo e da atti di vandalismo nonché a tutela della sicurezza pubblica per gli utenti del parco della rimembranza l'amministrazione comunale vuole affidarne la gestione ad un soggetto esterno. saranno a carico dell'affidatario spiegano la pulizia del parco il taglio dell'erba la manutenzione dei giochi la guardiania dell'aria durante le ore di frizione l'installazione di un punto di ristoro l'allacciamento di energie elettriche e idrica l'affidatario inoltre si impegnerà a rispettare a far rispettare tutte le norme igienico-sanitarie il regolamento d'uso dei giochi il decoro dei luoghi ai fini del superiore interesse pubblico e sarà responsabile dell'osservanza di tutte le norme contrattuali sindacali assicurative di eventuale personale dipendente utilizzato nell'area del parco e in quelli adiacenti saranno consentite inoltre diverse attività spettacoli e momenti di intrattenimento per grandi e piccoli sia in orario diurno che serale esercizio di attività di bar e ristoro l'installazione a carico dell'affidatario del punto di ristoro il posizionamento di ombrelloni tavolini attrezzature varie e altri elementi e interventi di miglioramento dell'area previa presentazione di apposito progetto tecnico l'accesso alle aree del parco e l'uso delle attrezzature installate non potranno essere vietati alla popolazione specificano dal comune né potranno essere richiesti pagamenti in qualsiasi forma per l'accesso alle aree e l'utilizzo delle attrezzature ad eccezione dei casi in cui ci siano eventi organizzati la gestione la gestione avrà la durata di tre anni prorogabile annualmente e comunque non oltre ulteriori tre anni a discrezione dell'amministrazione comunale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità rieccoci di nuovo in studio ben ritrovati garantire un turismo responsabile attento alle problematiche di tutela ambientale di corretto utilizzo delle risorse naturali e di rispetto dei valori sociali e culturali di un territorio su questi temi a Salerno si sono svolti presso il salone genovese della camera di commercio i quadri generali del turismo sostenibile organizzati dalla FENA la federazione provinciale di Salerno di rappresentanza di imprenditori e professionisti garantire il realizzarsi di un turismo responsabile attento alle problematiche di tutela dell'ambiente di corretto utilizzo delle risorse naturali e di rispetto dei valori sociali e culturali di un territorio per garantire una reale sostenibilità nel giorno in cui la città di Salerno registra la tappa del Giro d'Italia si sono svolti presso il salone genovese della camera di commercio di Salerno i quadri generali del turismo sostenibile in provincia di Salerno organizzato dalla FENAILP la federazione provinciale di Salerno di rappresentanza di imprenditori e professionisti tre giorni sul turismo per dibattere ed approfondire con il presidente nazionale della FENAILP Sabato Pecoraro il presidente nazionale FENAILP turismo Marco Sanzibiero il consigliere provinciale con delega al turismo Pasquale Sorrentino e dell'assessore al turismo del comune di Salerno Alessandro Ferrara anche l'argomento del flusso turistico motivato dagli eventi sportivi il turismo a vocazione sportiva rappresenta un segmento del comparto turistico nella provincia e nella città di Salerno lo sport può rappresentare un elemento di crescita e di promozione del territorio l'esperienza sportiva caratterizza lo spostamento la destinazione e le modalità di viaggio e costituisce il fondamento del turismo sportivo determinando tre diversi attori del turismo lo spettatore l'atleta il visitatore le discipline in cui si concentra la domanda alla pratica sportiva sono il ciclismo la vela la canoa poi la grande migrazione destinata dal calcio in particolare per Salerno e provincia dalla salernitana e dalla partecipazione alla serie A Sì oggi prende il via la prima edizione di un'iniziativa molto importante a cui la Fiena del Turismo ha lavorato da tempo che sono i primi quadri generali del turismo sostenibile in provincia di Salerno un'iniziativa unica nel suo genere che punta in questi tre giorni a mettere al centro i dati e i numeri nella discussione politica e di programmazione riguardo al turismo troppo spesso negli anni abbiamo assistito diciamo a scelte politiche e scelte strategiche che non basate sui numeri e questo ovviamente ha prodotto poco rispetto a quello che potenzialmente avrebbero potuto produrre quindi oggi noi con oggi parte questa iniziativa che appunto punta a cambiare il modus operandi e il modus ragionandi partendo da un presupposto che il turismo come tutti i settori industriali anche il turismo va programmato e gestito in maniera seria e quindi come in tutte le aziende accade quando si predispongono i budget annuali è evidente che anche anzi a maggior ragione nel campo pubblico gestendo soldi pubblici è importante che quando si allocano risorse pubbliche debbano essere queste risorse allocate seguendo una logica tecnica scientifica basata sui numeri questo è il messaggio che intendiamo lanciare con questi quadri generali i numeri al centro della programmazione della strategia una giornata di sport e divertimento a san pietro altanagro dove domenica 28 maggio si terrà il primo festival dello sport alleniamoci insieme promosso dalle associazioni sportive locali in collaborazione con il comune a san pietro altanagro un'intera giornata di sport e divertimento per bambini e ragazzi in un appuntamento che vede insieme diverse associazioni sportive con il patrocinio del comune di san pietro altanagro domenica 28 maggio presso il campo di calcio a 5 di via canali a san pietro si terrà il primo festival dello sport una giornata che vedrà i bambini dai 3 ai 14 anni protagonisti di diverse attività sportive che prevedono giochi a squadre oppure competizioni in cui si sfideranno singolarmente lo sport protagonista come veicolo di sani valori sociali ma anche per abituare i ragazzi ad un'attività che può aiutarli anche a mantenersi sani a partire dalle ore 20 e 30 del mattino presso il campo di calcio a 5 di san pietro altanagro grazie alle diverse associazioni sportive che si sono riunite per organizzare l'evento sarà possibile per i ragazzi partecipare e svolgere emozionanti attività sportive come ad esempio calcio basket atletica leggera tennis tiro con l'arco e tantissime altre attività sportive in una mini olimpiadi che vedrà i ragazzi sfidarsi in competizioni appositamente preparate dagli istruttori una giornata di grande divertimento ma anche di socializzazione oltre che educativa e molto salutare gli organizzatori hanno pensato a tutto per rendere speciale la giornata infatti sono anche previste le premiazioni per i vincitori delle diverse gare ma anche la consegna di gadget in ricordo di questa prima edizione del festival dello sport alleniamoci insieme ad impreziosire l'appuntamento sono inoltre state organizzate una serie di attività collaterali per intrattenere i partecipanti e rendere indimenticabile l'appuntamento per poter aderire alla prima giornata di sport di San Pietro Altanagro è necessario prenotarsi attraverso la scheda scaricabile attraverso il QR code riportato sulle locandine della manifestazione oppure al link che è possibile trovare sulla pagina facebook ufficiale del comune di San Pietro Altanagro torna adottati dopo 25 anni la borsa di studio Antonio Bamonte la cerimonia di premiazione degli studenti si terrà il 16 maggio dalle 10 presso il convento dei domenicani un importante appuntamento torna adottati dopo 25 anni si tratta della borsa di studio Antonio Bamonte edizione 2023 voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Elio Guadagno la premiazione degli studenti si terrà nel corso di una cerimonia in programma il 16 maggio presso il convento dei domenicani di Ottati dalle 10 alla presenza del presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri saranno presenti gli alunni delle scuole di Ottati Sant'Angelo a Fasanella e Corletto Monforte e i sindaci del territorio tra i presenti alla cerimonia anche il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Salerno Mimiminella e la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Serre Castelcivita la professoressa Dorotea Odato i premi saranno conferiti agli alunni della scuola primaria di primo grado di Corletto Monforte e della scuola secondaria di primo grado di Sant'Angelo a Fasanella un importante appuntamento dunque che vuole premiare i giovani studenti meritevoli con l'obiettivo di incoraggiarli nell'accrescimento culturale per onorare la memoria di Antonio Bamonte con un'opera adatta a rispecchiare le più nobili qualità dello spirito e le più alte doti professionali fanno sapere dal comune nonché ad attuarne le intenzioni e le idealità fu deciso di creare in favore degli alunni della scuola media di Ottati borse di studio con il fine di incoraggiare i giovinetti all'accrescimento culturale e la realizzazione di questo proposito concludono dall'amministrazione comunale è la cosa più bella per onorare la sua memoria ed è l'ora più bella per Ottati e per coloro che la vollero Antonio Bamonte nacque adottati il 14 aprile 1895 laureato in giurisprudenza a Napoli fu nel ministero delle finanze dal 1917 al 1931 nel ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1931 al 1930 fu commissario governativo membro autorevole di collegi e commissioni di studio in Italia e all'estero presso la Feder Consorzi e presso numerosi consorzi agrari e provinciali inoltre scrisse numerosi saggi e non da ultimo raccolse la preziosa biblioteca che alcuni decenni dopo il fratello Teodoro giudice ha donato al comune di Ottati era questo il nostro ultimo servizio grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti